La conversione all'ascolto, alla realtà e alla spiritualità. Sono questi temi al centro del messaggio della Conferenza Episcopale Italiana per la Quaresima. Un invito a una triplice conversione urgente e importante in questa fase della storia segnata dalla pandemia. Sentiamo. Quando venne la pienezza del tempo? È da questo versetto della lettera ai Galati che prende spunto il messaggio della Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana per la preparazione alla Pasqua 2022. La conversione all'ascolto, alla realtà e alla spiritualità sono i concetti cardine. Ogni anno il periodo della Quaresima ci prepara a vivere il mistero pasquale del Cristo morto e risorto. In questo tempo bisogna rendere la propria vita piena, cioè pronta all'incontro personale di Gesù. Per il secondo anno consecutivo la Quaresima porta con sé tante speranze, ma anche le sofferenze causate dalla pandemia e dunque il periodo più propizio per una conversione. In tempo di emergenza sanitaria la prima è la conversione all'ascolto della voce degli esperti, ma anche dei più piccoli e degli adolescenti che hanno subito numerose privazioni a causa della pandemia. L'ascolto a cui siamo invitati deve sempre essere empatico e partecipe, comunica un livello di attenzione massimo verso l'altro, interpellati in prima persona ogni volta che un fratello si apre con noi. Poi c'è la conversione alla realtà. Ancorarsi alla realtà storica è fondamentale per i cristiani, significa obbedire al presente senza abbandonarsi ai rimpianti, né cedere alla paura. La caratteristica del cristiano è dunque la perseveranza. La comunità e i singoli credenti devono riappropriarsi del presente con pazienza e restare aderenti alla realtà. Infine, cogliere la pienezza del tempo significa anche cogliere l'azione dello spirito nel tempo che lo rende sempre un tempo opportuno. Ecco che la Pasqua e ancora prima il periodo della Quaresima vuol dire riconsiderare la storia nell'ottica dell'amore, anche se questo significa farsi carico della propria croce e di quella degli altri.